la domanda sarebbe qual è la capitale dell'africa? la capitale dell'africa è molto facile se pensi bene il paese più conosciuto allora in l'africa quale sarebbe il paese più conosciuto allora in l'africa quale sarebbe non conosci nessun paese dell'africa? no egitto fa parte dell'africa qualcuno dell'egitto qualcuno dell'egitto? tipo la capitale dell'egitto ok ma può essere la capitale dell'africa? non lo so è l'unico che mi viene in questo momento va bene almeno lei ha provato tu oppure devi indovinare almeno un paese che visto che sono molti questi paesi che vengono qua lo sapete bene non può essere che non sai anche un paese non mi viene nessun nome in questo momento davvero? sì ma è una domanda con un vuoto e va bene allora vi ringrazio mille se vi va vi posso anche mettere sul mio canale di youtube perché questo è il mio canale ok? come possiamo trovare? che sema so questo è il nome del mio canale questo è il mio si va bene ciao c'è i miei iscritti più di 4800 che mi sta facendo questa domanda per chiedere ai ragazzi studiani qua anche io tutti quanti chi vuole partecipare allora mi potete rispondere uno per uno ok per voi qual è la capitale dell'africa? uno per uno non lo so ma non lo so Marocco? bravo eh puoi essere Marocco si non è Marocco e qual è la Marocco no no Somalia è uno Stato Somalia è uno Stato ma fa parte del? del Sud Africa Sud Africa ok ok ciao ragazzi scusate un attimo un attimo allora c'è questi miei iscritti su youtube che mi stanno chiedendo per esempio per fare i ragazzi studiani qua chi è disponibile per fare questa mia videocamera ok per voi se vi posso chiedere qual è la capitale dell'africa? si qual è la capitale dell'africa l'africa qual è la capitale sia di Città Roma è la capitale quindi però mi potete rispondere uno per uno tutti e due chissà dai ce la fate? non lo so poi si inizia con la M puoi iniziare con la M tutte le lettere c'è però deve essere una lettera che inizia con il nome della capitale prima è un continente o è un paese l'africa è un continente o è un paese è un continente quindi può avere un capitale la capitale quindi non può avere ok va bene grazie a me ragazzi è che semmasso questa è la mia pagina quindi dopo mi potete seguire lì questo è il mio l'ha saputo Luca l'ignorante ah no vitto hai lupato un tasco buonasera ciao allora ragazzi in vita normale io faccio youtube questa è la mia videocamera oggi io sto girando qua perché oggi è il sabato libero quindi non sono andato a lavoro ho molti iscritti almeno 4800 persone che mi seguono su youtube e quindi loro ha fatto la domanda a me che posso chiedere a voi qua ok e la domanda è quale sarebbe la capitale dell'africa la capitale dell'africa si allora è un continente prima è un continente o è un paese un continente quindi un continente può avere capitale come l'europa può avere capitale per caso se vi va è questo se vi va prima vi metto sulla mia canale perché si che ha fatto questa domanda a me quindi io dovrei fare questo qua perché il mio secondo che mi piace fare nel mio tempo libero quindi se vi va potete seguire questo nome qua che se mi chiedono per esempio visto che ragazzi studiano qua forse sapete molto dell'africa o magari un poco e mi hanno chiesto ok per voi l'africa è un continente o un paese è un continente ok ok qual è la capitale dell'africa allora si non può esistere un continente non può esistere la capitale non può esistere un che se mi sa che mi sa io come ti chiamo su instagram che ti sa qui che se mi sa qui si fai un botto di stile poi pure io aspetta Ora prenderò la stessa. Comunque stessa in Giulia migliori di tutti. Questo video lo metto scritto? Sì. Va bene. Quindi mi posso vedere nel mio canale? Sì, lo puoi vedere nel mio canale così. O avrai anche la notifica, se attivi la notifica così appena carico il video. La campanellina. La campanellina. Deve andare dietro, forse. Mi senti le notifiche? Deve andare dietro? No, no, la dici sulle notifiche. Ok, qua così. Attivato. Quindi appena carico il video lo potrai vedere. Mi arriva. Va bene, vi ringrazio mille per la partecipazione. Sì, grazie. Grazie amici. Ciao. Salve. Ciao. Scusate se è benissimo. Ragazzi, io ho una vita faccio youtuber, molti iscritti che mi hanno seguito questo su YouTube. Però ha fatto la domanda a me, loro ha fatto la domanda a me, io dovrei fare a voi. Quindi la domanda sarebbe qual è la capitale dell'Africa se conoscete voi. La capitale dell'Africa? Sì. Sì. Allora, l'Africa, prima, ha una capitale o non ha una capitale o non ha una capitale? Secondo me no, perché sono appestati di teni stato alla sua capitale. Eh va bene. È sbagliato? No, avete ragione pure. Non può avere una capitale perché è un continente. Ok. Esatto. Allora, nice. Qualcosa di giusto. Eh no, perché molti mi dicono qua allora l'Africa è la capitale, per esempio il Marocco o Sud-Africa è la capitale, quindi Sud-Africa è un paese, non può essere la capitale perché l'Africa, visto che è un continente, può avere capitale. L'Africa, giusto, ci sono più stati, come l'Europa. Comunque io, questo qua è il mio videocamera, se non lo so, questo qua sta registrando per ora. Ok. Se vi va vi posso anche mettere nel canale così. Sì. Va bene. Come si chiama il canale? Eh, Kessemasou. Questo è il nome del canale. Kessemasou? Sì. Dopo vi metto il link così potete vedere il video. Ok? Va bene. Vi ringrazio mille. Ciao. Grazie. Grazie.